Un inizio di stagione in salita per la squadra di prima divisione femminile della 2008 Volley, che sul campo di casa del Palaraccagni ha affrontato Ligor Novara nella prima giornata di campionato, subendo una sconfitta netta con un punteggio di 0-3. Nel primo set, Novara ha dominato con un gioco incisivo e ben strutturato, lasciando poco spazio alle speranze dei padroni di casa. Tuttavia, nei secondi due set, la 2008... La tecnologia da incentivi, fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki